Un gioiello di lusso che parla in te, Cameo Italiano. Benvenuti nel Lagozio Cameo Italiano, benvenuta da Leggora. Ciao, cara. Siamo a Via Francesco Crispi a Roma e io sono qui perché sto cercando un regalo per una mia amica. Io ho la soluzione per te. Volevo degli orecchini. Ci siamo proprio. Ah sì? Guarda che splendore. Wow, ma che luce. Sono luminosissimi. Luminosissimi. Abbiamo l'argento 925 con questa placatura di oro rosa 18 carati che è giallo e oro rosa crea luce. In più, impreziosito da queste perle di acqua dolce che creano anche movimento e di conseguenza più fluidità nell'indosso. Quando magari vai a una festa e balli o semplicemente quando cammino e danza. Molto femminili. Molto femminili. E abbiamo il volto, classico della tradizione del cameo, su corniola. Che corniola è la conchiglia col fondo chiaro. Sì, quindi, perché se no c'è anche la conchiglia cassis. Che è col fondo scuro, leggermente più scuro. Ok. E questo piace molto, questo fondo chiaro. Anche a me lo sai, mi piacciono tutti. Poi è bello proprio, la diversità è già meravigliosa. Certo. Però questo fondo chiaro dà tantissima luce. Poi noi sappiamo anche che le perle danno luce al viso. E addirittura tendono un pochino a attenuare i segni del tempo. Anche. Ecco, quindi sono degli orecchini veramente meravigliosi. Tra l'altro per questo design, che è leggermente gipsia anche volendo, sono molto adatti. Secondo me sia una signora un pochino più grande, sia una ragazza molto giovane. Anche. Io li vedo molto bene portati con un paio di jeans. Una maglietta. Sì. I preziosiscono senza, diciamo, creare un look eccessivamente elegante. Assolutamente. Sai cosa penso? Anche magari esci la mattina, un giorno di festa, di libertà, no? Quindi ti metti comoda come vuoi con i jeans. Poi le amiche ti dicono andiamo a prendere un aperitivo in quel locale. Non fai in tempo a cambiarti. Solo l'indosso degli orecchini è arricchito il tuo outfit. Esatto. Ti metti questi orecchini e sei già pronta per la sera. Sì. Come invece se poi vai in qualche ristorante dove ti vuoi far notare, ti vuoi mettere anche in luce, proprio mettere in luce il tuo viso. Bostano un paio di orecchini. Davvero. Grazie Deborah. Grazie Manu.